un coraggioso personaggio femminile, è una danza tra l'altro legata alle donne ed è una specie di messaggio per fare scelte sacce nella vita la danza è accompagnata dalla musica tradizionale Betawi Gambang Kromong ed è prontissima la nostra danzatrice, vorrei un applauso per Zaina Vaskito Indonesia www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.